Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video dedicato al torneo dei candidati Oggi analizziamo la partita del secondo turno tra Nepo e Karuana Attualmente primi in classifica e che stanno dimostrando di essere in grandissima forma Da un lato abbiamo Nepo che dopo la sfida contro Karsten per il titolo mondiale Sembra essere una persona completamente diversa Sicuramente più maturo e con uno stile di gioco diverso Mentre Karuana è un mostro di conoscenza teorica del gioco Pazzesco Andiamo a vedere cos'è successo in questa partita Perché i due stanno veramente giocando a un livello sovrumano Prima di iniziare ricordo a tutti di iscrivervi al canale Mettete mi piace a questo video Grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo E iniziamo Ok eccoci qui Nepo aveva i pezzi bianchi Inizia con 1 e 4 Karuana risponde con e 5 Ormai possiamo dire che è la mossa più giocata a questi livelli Dopo cavallo F3 Cavallo C6 Arriva al fiere C4 Quindi Nepo opta per la partita italiana Che come ben sapete insieme alla partita spagnola È uno dei sistemi più utilizzati dal bianco contro 1 e 5 Arriva cavallo F6 da parte di Karuana Oggigiorno cavallo F6 sta diventando preferibile al fiere C5 Che è la linea principale Questo perché al fiere C5 permette al bianco di avere più scelte Quindi può giocare ad esempio C3 e D4 Può giocare il gambetto Ivans Anche se ad altri livelli non viene giocato spesso Però il bianco ha più scelte rispetto a cavallo F6 Tutto qui Quindi vedete la preparazione teorica a questi livelli Nepo gioca con D3 Arriva al fiere C5 Preparando a questo punto l'arrocco Nepo decide di mettere il real sicuro Karuana gioca a pedone D6 E qui arriva la spinta C3 Questa spinta serve chiaramente a preparare D4 Quindi queste sono proprio delle manovre tipiche nella partita italiana Karuana gioca A6 La mossa A6 chiaramente serve a preparare B5 E a dare spazio all'alfiere Quindi a dare la casa A7 all'alfiere Ora qui Nepo risponde con A4 appunto Una cosa che dico sempre nei miei video E che a mosse come A6 oppure A5 Si risponde sempre con A4 E infatti come vedete anche i campioni lo fanno Qui Karuana gioca al fiere A7 Arriva a torre E1 Centralizza la torre Nepo H6 Questa è una mossa particolare Che va a controllare la casa G5 Quindi non permette all'alfiere di giocare in G5 E dopo cavallo D2 Anche questa è una mossa molto tipica dell'apertura italiana Dove Nepo sta chiaramente cercando di giocare cavallo F1 Cavallo G3 Karuana gioca G5 Ok Questo è un momento critico della partita Questa mossa in passato era stata analizzata anche da Karsian E addirittura di recente Anish Giri ci ha fatto proprio un video corso su questa mossa Dicendo che ormai i grandi maestri sanno come reagire a G5 E che questa spinta non crea problemi al bianco Eppure Karuana ci prova ragazzi Nepo risponde con B4 Di fatto Nepo ha già avuto questa specifica posizione Giocando contro Girsuk Quindi fino a qui era in preparazione possiamo dire Ma a questo punto Karuana spiazza tutti e gioca cavallo G4 Questa è la mossa critica Questa è la mossa nuova Che non è mai stata giocata Nemmeno analizzata da Anish Giri nel suo corso ad esempio Quindi è una novità Infatti Nepo rimane sorpreso da questa scelta Karuana dopo il match affermerà Che cavallo G4 ha lo scopo di sorprendere l'avversario Di fatto è una mossa quasi perdente Dice addirittura Ma secondo lui quasi nessuno l'aveva mai analizzata Quindi definisce questa mossa come una grande scommessa E io ribadisco che gli scacchi oggi si basano sempre di più Nel sorprendere l'avversario In apertura Giocando sempre di più linee dove l'avversario non è preparato E ormai grazie ai motori possiamo preparare delle linee non proprio teoriche Quindi uscendo velocemente dall'apertura Quindi anche linee inferiori Dove però sono molto difficili da analizzare lì sul momento Ecco questa era la strategia di Karuana ragazzi La stessa strategia ovviamente viene utilizzata anche da Karzen E quindi da tanti top player Ok qui Nepo risponde con torre 2 Chiaramente torre 2 perché il cavallo attacca F2 L'alfiere attacca F2 Quindi torre 2 difende il pedone in F2 Per non giocare torre F1 Altrimenti la torre in F1 sarebbe stata passiva Karuana continua con donna F6 Donna F6 va a aumentare la pressione su F2 Come vedete con 23 pezzi Anche se ha raggi X Comunque mette pressione su F2 Nepo risponde con donna E1 Donna E1 è la mossa più naturale Chiaramente va a difendere F2 E qui Karuana gioca a donna G7 Ora donna G7 è una mossa abbastanza strana Ma in realtà del tutto comprensibile È una mossa strategica che serve a dare spazio al cavallo in F6 Altrimenti dopo un eventuale H3 Questo cavallo sarebbe praticamente intrappolato Quindi ecco serve a dare la casa F6 al cavallo Nepo continua con cavallo F1 Quindi con il suo piano Tipica manovra nella partita italiana Per giocare cavallo G3 chiaramente Dopo arrocco Nepo gioca cavallo G3 Questo cavallo in G3 non solo comunque controlla la casa E4 E in alcuni casi difende il pedone in E4 Ma può anche saltare in F5 Come ben sapete F5 è una casa molto critica per i cavalli I cavalli in F5 sono molto forti Ora qui arriva cavallo E7 da parte di Karuana Quindi si preoccupa subito della minaccia di Nepo Di voler saltare in F5 con il cavallo A questo punto Nepo decide di giocare al centro Giocando D4 Questo perché? Perché il cavallo in E7 ora non controlla più la casa D4 E quindi Nepo ne approfitta per controllare meglio il centro A questo punto arriva pedone per D4 E su pedone per D4 Karuana gioca di nuovo cavallo C6 Ora qui pensate che fino a questo punto Siamo alla sedicesima mossa Karuana aveva utilizzato solo 6 minuti per fare 16 mosse Mentre Nepo ha praticamente utilizzato un'ora del suo tempo Quindi è veramente incredibile questa cosa Ecco cosa significa Conoscere bene il sistema che si gioca E quindi l'apertura in questo caso Karuana va a giocare a un sistema inferiore Ma preparato con cura con il motore Nepo si ritrova per la prima volta in vita sua Probabilmente a giocare questa posizione Va in difficoltà E quindi va sotto di tempo Quindi ragazzi le aperture Si ritorna al solito discorso Servono le aperture? Certo che servono le aperture Soprattutto a questi livelli Ok Nepo qui però Gioca torre A3 Questa è una mossa veramente assurda Che di fatto spiazza Karuana Che dopo riferirà che Nelle sue analisi Non aveva proprio preso in considerazione La mossa torre A3 Ora con torre A3 La posizione è completamente pari Qui Karuana decide di giocare Cavallo per D4 Quindi guadagna momentaneamente un pedone Arriva a cavallo per D4 Alfiere per D4 E a questo punto La situazione si fa molto interessante La mossa a cavallo G4 In apertura di Karuana Ha avuto effetto E ha dato i suoi frutti Ora Karuana qui si ritrova Con ben 40 minuti in più Rispetto a Nepo Con un pedone in più E la posizione comunque Rimane estremamente complicata Anche se Nepo Fino a qui è stato molto bravo Perché è stato sorpreso in apertura E ha saputo reagire comunque In maniera eccellente Direi Qui arriva H3 Da parte di Nepo Decide di cacciare via il cavallo Il cavallo si sposta in E5 Attaccando l'alfiere in C4 Alfiere A2 Da parte di Nepo E Karuana gioca C5 Quindi cerca di prendere l'iniziativa Difendendo anche l'alfiere in D4 Che è molto forte Arriva pedone per C5 E qui Karuana decide di prendere di alfiere Preferisce prendere di alfiere Guadagnando un tempo sulla torre Anche se Stockfish suggerisce La presa di pedone Però va bene anche così A questo punto Nepo gioca torre B3 Mettendo pressione su B7 Impedendo di fatto momentaneamente L'alfiere di poter essere sviluppato Ma Karuana gioca un'altra mossa Molto forte che è B5 Qui è molto rischioso Catturare il pedone in B5 Da parte di Nepo Altrimenti Karuana avrebbe una torre Molto forte sulla colonna A Quindi Nepo decide di giocare Cavallo F5 Karuana risponde con Donna F6 Mettendo pressione sul cavallo In F5 Sia con la donna Che con l'alfiere Arriva a questo punto Re H2 Il re si toglie Dall'inchiodatura Dell'alfiere E ora nepo Nepo ha l'idea di giocare F4 A un certo punto Quindi qui Karuana decide di guadagnare il secondo pedone E nepo gioca Torre G3 Cercando di impostare un attacco sul lato di re Che partita spettacolare ragazzi Partita veramente micidiale Nepo ha sacrificato due pedoni La posizione è estremamente complicata Il motore preferisce leggermente il nero Ma grazie anche due pedoni in più il nero Però è giocabilissimo Questi due stanno giocando come due alieni Veramente mi piace tantissimo il modo in cui Stanno giocando Karuana e Nepo Qui Karuana gioca re H7 Si toglie subito dall'attacco a raggi X della torre Arriva donna D1 Donna D1 serve ad attaccare il pedone Ma non solo L'idea di fondo è quella di giocare donna H5 Per poi fare stragi sul lato di re A questo punto Karuana gioca alfiere D7 Difendendo il pedone Arriva torre C2 E qui Karuana gioca a questo punto alfiere per F5 Questo cavallo stava diventando effettivamente troppo pericoloso Ora il bianco sta preparando donna H5 E quindi Nepo avrebbe avuto troppi pezzi ad attaccare Quindi Karuana rilascia un po' la tensione Cattura in F5 Pedone per F5 Torre B8 Quindi torre su colonna aperta Nepo continua con il suo piano Donna H5 E di fatto qui ora sta minacciando alfiere per G5 Dove praticamente avrebbe un attacco devastante Quindi Karuana deve correre ai ripari Gioca torre G8 per difendere il pedone in G5 E arriva alfiere B2 Ora in questa posizione A Karuana rimanevano solo 12 minuti di tempo E decide di ripetere la posizione Quindi va a giocare Torre 8 Alfiere B1 Torre G8 Alfiere B2 Torre 8 di nuovo Alfiere C1 E la partita finisce in parità Ora sembra tutto semplice In realtà la posizione era estremamente difficile Dopo alfiere B2 Effettivamente non è chiara Perché è molto sbilanciata la posizione Ora qui il motore suggeriva una mossa Che sicuramente Karuana avrà preso in considerazione Ovvero torre per B2 Sacrificio di qualità Una variante comunque molto molto difficile da vedere tutta Con così poco tempo Perché dopo torre per B2 Torre per B2 Sarebbe seguita A3 Attaccando la torre Torre B7 Alfiere per F2 Attaccando la torre in G3 Dopo torre per A3 Pedone D5 Cioè questa è una mossa È assolutamente eccezionale È una mossa difficilissima da vedere E da analizzare Chiaramente Pedone D5 A cosa serve? Serve a giocare Donna D6 Attaccando il re a raggi X E guadagnando un tempo sulla torre in A3 Ora qui il nero Sì stava meglio Però ripeto Variante veramente troppo complicata E secondo me Karuana ha fatto bene A non forzare le cose Perché poteva addirittura anche perdere per il tempo Con solo i 12 minuti di tempo sull'orologio Infatti qui dopo ad esempio Donna E2 Sarebbe seguita Donna D6 Con minaccia di scoperta letale Con questo cavallo Quindi il nero sicuramente qui Sarebbe stato in vantaggio Beh cosa dire ragazzi Questi due stanno giocando A un livello veramente altissimo Mi sembrano estremamente preparati Rispetto agli altri Mi sembra al momento Che abbiano una marcia in più Poi non si sa perché il torneo è lungo Qui conta moltissimo anche la resistenza Conta tantissimo il fattore psicologico La personalità della persona Quindi entrano tantissimi fattori in gioco Vedremo cosa succede Però il torneo mi sembra Veramente ad altissimi livelli In questo momento E ci stiamo divertendo tantissimo Grazie a tutti per la visione di questo video Vi ricordo di lasciare un mi piace Iscrivetevi al canale Ciao e alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti